Bella a tutti Angeli, sono Angel Devil e oggi vi volevo avvisare che non so se farò le live questo è un messaggio importante per tutti, io volevo solo dire che chiunque di voi vedrà questo messaggio e non è molto presente nelle mie live, volevo dirle che sto organizzando un torneo di Fortnite dove si giocherà tutti insieme e poi in questi giorni darò la data a fine d'ora siamo arrivati a 12 concorrenti con me incluso perché non so se voglio partecipare o no e ragazzi mi raccomando condivete questo video su tutti i gruppi e fate arrivare a tutti gli iscritti e a tutti quanti, io volevo solo dire che chi non è molto presente nelle mie live per favore venga e chi vuole essere moderatore me lo chieda nelle live come in questi giorni sta accadendo perché vedo che molti miei moderatori non ci sono, non sono presenti e quindi li sto togliendo, quindi per chi è interessato al mio canale e vuole essere moderatore e mi vuole affiancare in tutte le mie live deve essere molto costante nelle live presente e vi volevo dire che vi aspetto tutti i one di oggi pomeriggio e faccio una mini live, questo è tutto da Angel Devil, ciao Angeli ci vediamo a presto!